ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale faccio questo breve video che resterà sempre come trailer principale al canale per annunciare l'inizio della mia collaborazione con il sito board game discount board game discount è un negozio che farà da sponsor direttamente al canale e per tutti gli acquisti dei loro giochi potete andare direttamente tanto lo avete scritto qui davanti e troverete il link in descrizione in tutti i video il sito è board game discount punto it hanno sempre prezzi tra i più bassi che ci sono veramente in italia e prezzi competitivi si trova sempre un catalogo continuamente aggiornato di tutte le novità in uscita ma anche e soprattutto prodotti che sono fuori produzione quindi di difficile reperibilità mentre su board game discount invece li troverete le spedizioni come scritto qui davanti sono gratuite per ordini dagli 80 euro in su e ovviamente prendono tutti quanti i metodi di pagamento come carta di credito tutte quante le carte paypal e quant'altro comunque trovate tutte le informazioni sul loro sito ricordatevi che hanno fra i prezzi più competitivi che ci sono in italia e trovate nel catalogo tutto soprattutto sempre aggiornato e con le migliori novità in uscita da parte di tutti gli editori quindi cranio creation asmode genos games e quant'altro d'ora in avanti troverete sempre il primo link in descrizione per andare acquistare dal loro sito e questo sarà come trailer al canale andate a dare ragazzi un'occhiata subito sul sito board game discount perché veramente ci sono tantissimi giochi al miglior prezzo che potete trovare assolutamente online e in circolazione ciao ragazzi alla prossima ciao ciao